Cominciamo questo incontro, siamo in collaborazione, ospitati dalla Regione Lombardia, dal suo Consiglio regionale, questo incontro dal titolo Siria, la terra contesa, la speranza che vive ad Aleppo, la speranza che stasera è rappresentata dal pastore della Chiesa Latina in Aleppo, Sua Eccellenza George Abu Qazen. Vi salutiamo di nuovo. Giorgio Paolucci, giornalista, ci aiuterà instaurando un dialogo di domande con lui, ma prima vorrei chiedere al Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, che oggi ha voluto anche svolgere un incontro nel pomeriggio con i consiglieri regionali di informazione, di giudizio e di dialogo con Sua Eccellenza, e poi a Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della Diocesi Milano per l'azione sociale e la cultura, rappresenta il nostro arcivescovo e l'iniziativa è con il patrocinio e la collaborazione dell'Arcidiocesi. Dunque do la parola a Raffaele Cattaneo, che ringrazio ancora della gentile ospitalità. Grazie, buonasera a tutti. Un breve saluto da padrone di casa, sapete che questo è l'auditorium del Pirellone, lo conosciamo tutti così, con questo nome e questo edificio, ma è la sede del Consiglio regionale. Un saluto che è anche l'occasione per un ringraziamento particolare, ulteriore a Monsignor Cazzen, che oggi ci ha fatto il regalo di rendersi disponibile nel pomeriggio per un incontro con un gruppo di consiglieri regionali, un incontro che ha confermato l'interesse delle cose che ha da dirci e che questa sera, sono certo, rinnoverà nell'incontro con tutti voi. Quello che Monsignor Cazzen ha da dirci ha un rilievo anche per la vita civile della nostra Lombardia e oggi l'incontro con lui lo ha confermato. Questo è anche il motivo per cui il Consiglio regionale ha voluto patrocinare questo incontro e rendere disponibile questa sala, perché quello che sta avvenendo ad Aleppo interroga tutti noi sulla tragedia, le ragioni della tragedia che colpisce la Siria, ma anche sulle ragioni della convivenza con chi è diverso da noi, che è un tema che oggi è all'attualità anche della nostra regione. Noi ci stiamo affacciando adesso a una convivenza multietnica e multireligiosa in Siria invece, o in Libano che è la terra nativa di Monsignor Cazzen, questa convivenza dura da secoli e dunque esperienze come la loro hanno molto da dire anche per capire da che parte dobbiamo prendere questi temi che sono attuali, che sono anche complessi e difficili dal punto di vista della nostra convivenza. Sono certo che l'incontro con lui ci aiuterà ad avere ragioni ulteriori per capire che in fondo siamo tutti esseri umani e l'incontro più autentico è l'incontro con la nostra umanità, con i bisogni concreti della nostra umanità. Quello che mi ha colpito dall'incontro di oggi con Monsignor Cazzen è soprattutto questo che è partito dalla concretezza, pratica, immediata dei bisogni degli uomini che vivono questa condizione difficile ad Aleppo e da lì ha reso possibile poi un dialogo anche su ragioni più profonde. Come a dire che non c'è nessuna considerazione di natura ideale che non parta dalla condizione reale e concreta che l'uomo vive e questo credo che abbia molto da dire anche a chi ha responsabilità politica e amministrativa. Grazie dunque Monsignor Cazzen per aver accolto l'invito, per essere qui questa sera e speriamo di poter essere concretamente utili ai bisogni che lui oggi ci ha rappresentato e che questa sera descriverà che sono davvero tanti e che hanno bisogno anche di un aiuto concreto. Grazie e buonasera. Monsignor Cazzen buonasera, le porto i saluti della diocesi di Milano a partire dal suo vescovo il cardinale Scola che la ringrazia per questa sua presenza, si scusa se non può essere presente perché è impegnato in una visita pastorale. È contento di questo incontro perché è convinto che questo incontro potrà essere una vera scuola di vita. Abbiamo bisogno a Milano, in Lombardia, nella diocesi di Milano, di scuole di vita come queste per più motivi. Il primo è perché, come diceva il Presidente Cattane, abbiamo bisogno di imparare a vivere in una società meticcia, una società plurale che effettivamente contempla molte identità culturali e religiose al suo interno che devono saper convivere anziché combattersi. Abbiamo bisogno di una scuola di vita anche per capire e imparare che cosa vuol dire essere cristiani dentro questa cultura, dentro questa società, perché veniamo da un passato in cui era facile essere cristiani perché la fede si confondeva con l'appartenenza culturale. Abbiamo bisogno di capire che cosa vuol dire rimanere cristiani quando effettivamente questa fede non può essere più confusa, ne fatta coincidere con l'appartenenza culturale. E soprattutto abbiamo bisogno di questa scuola di vita perché il cambiamento che stiamo vivendo sembra rubarci la speranza. Si è potuto guardare i giornali anche di oggi, si sarà accorto che soffiano molte paure sull'Europa e anche su Milano, che si appresta anche ad una campagna elettorale amministrativa, per cui ascoltiamo volentieri la sua testimonianza, ascoltiamo ciò che ci racconta, convinti che può nascere un dialogo, può continuare un dialogo che ci permetterà di essere più uomini e più cristiani anche qui a Milano. Grazie ancora. Buonasera. Abbiamo pensato di organizzare questa serata in forma di dialogo, ponendo a Sua Eccellenza Kazen alcune domande che credo raccolgano un po' anche le attese di molti tra i presenti, in parte sull'attualità, l'attualità della Siria è un'attualità molto stringente, se ne parla tutti i giorni sui giornali, ma con lui cercheremo anche di andare un po' in una profondità che non sempre i media consentono di ottenere. Sapete tutti un po' quello che sta accadendo in Siria? Cinque anni e alcuni mesi ormai di guerra civile, cominciata l'11 marzo del 2011, 400.000 morti secondo i dati delle Nazioni Unite di settimana scorsa, forse il conflitto più sanguinoso dopo la seconda guerra mondiale, altri dati molto forti, molto tragici, 4.600.000 rifugiati all'estero nei paesi limitrofi, tra Libano, Giordania e Turchia, su una popolazione di 22-23 milioni di abitanti e ancora 12 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare le loro case tra sfollati interni e sfollati esterni, quindi più della metà della popolazione non vive più dove viveva prima dell'inizio della guerra. Oltre 20.000 persone scomparse di cui non si sa più nulla e in questo contesto la comunità cristiana, una comunità che accompagna la Siria fin dalle sue origini, vive una condizione molto pesante, molto difficile, la condizione di una minoranza assieme ad altre minoranze, come poi sentiremo, non è l'unica minoranza che vive questa condizione, con un calo di presenze, anche questo molto preoccupante, circa 1.200.000, un milione e mezzo di cristiani in Siria prima dell'inizio della guerra, circa 6% della popolazione, oggi scesi a poco più di mezzo milione, quindi molto meno anche in percentuale rispetto agli abitanti della Siria. In questo contesto c'è Aleppo, Aleppo città martire di questa guerra, Aleppo che il Cardinale Arcivescovo Scola ha definito la Sarajevo del XXI secolo, una città dove da tempo, da mesi, da anni si sta combattendo quella che viene ritenuta a torto o a ragione la battaglia decisiva per le sorti di questo conflitto siriano. Una città divisa, divisa a metà tra l'esercito regolare e vari gruppi, vari gruppi ISIS al-Nusra e altri gruppi di ribelli dell'opposizione di varia natura che controllano circa un'altra metà della popolazione, della città. In questo contesto vive Sua eccellenza Monsignor Giorgio Aboukazen, che abbiamo tra noi. Dico due parole soltanto su di lui, di origine libanese, di rito maronita, è entrato nell'ordine dei frati minori della custodia di Terra Santa nel 1968, è stato ordinato sacerdote nel 73 e ha servito la custodia di Terra Santa in Egitto e in Terra Santa. È stato due volte parroco di Gerusalemme e poi a Betlemme e dal 2004 vive in Siria. Siria che ha un grande patrimonio cristiano, una grande memoria cristiana. Solo due citazioni storiche. Ad Antiochia raccontano gli atti degli Apostoli per la prima volta i seguaci di Gesù vengono chiamati con il nome di cristiani. Antiochia che è stata fino a pochi decenni fa anche in territorio politico siriano, anche se oggi appartiene alla Turchia. A Damasco, capitale della Siria, Saulo, il più accanito persecutore dei cristiani, diventa Paolo, il più appassionato annunciatore del Vangelo. Nel VI secolo la Siria si confessava interamente cristiana. Tra i 640 e i 740 sei papi sono arrivati dalla Siria. Quindi una Siria che è stata nei confronti del cristianesimo un grande alimento, una grande fonte di vocazioni, di santità, di arte, di cultura, di memoria. Una Siria alla quale oggi noi guardiamo con grande preoccupazione non solo e non tanto come cristiani, ma come uomini. Perché lì si sta appunto consumando un conflitto che mette in discussione quella che è la vocazione storica di questo Paese. La vocazione di un Paese mosaico in cui da sempre sono vissuti insieme elementi, identità culturali, religiose, etniche diverse. Partiremo in questo dialogo da Aleppo, la città dove Monsignor Kazen vive, perché ci racconti un po' le ultime novità, che non sono novità molto positive per chi ha letto i giornali, soprattutto in questi ultimi due giorni. Sono ripresi gli scontri, i ribelli hanno attaccato con bombe confezionate con bombole a gas riempite di chiodi, seminando morte, devastazione e terrore. L'aviazione dell'esercito siriano ha risposto, ci sono state decine di morti in questi giorni. Sullo sfondo c'è la conferenza di pace di Ginevra, come sapete che sta andando avanti da tempo a Tentoni e che però potrebbe rappresentare un punto di svolta vero di tutta questa vicenda. Quindi la prima domanda che vorremmo rivolgere a Sua Eccellenza è, da una parte, di raccontarci qual è la situazione oggi ad Aleppo e poi come vede lui queste prospettive di possibile soluzione del conflitto. Buonasera a tutti e pace bene. Prima di tutto sono io che devo ringraziare perché mi avete dato questa occasione, questa bella occasione di fare una testimonianza, di portare anche le nostre speranze e le nostre anche sofferenze. Devo ringraziare in modo speciale la città di Milano e la regione anche di Milano perché ospita tanti e tanti profughi con tanta apertura e di questo noi vi siamo grati. Adesso entrando nella sala ho trovato addirittura due aleppini cristiani e uno che teneva la nostra corale, la corale della parrocchia, sta qui. Quindi grazie anche per questo. Scusate il mio italiano e poi il mio sarà più una testimonianza, non è una lezione né niente, non sono niente da insegnare veramente, sono da imparare, ma nello stesso tempo anche forse questa esperienza che noi viviamo può servire ad altri. Aleppo dopo cinque anni di guerra, con questo ultimo coprifuoco oppure tregua, non coprifuoco, c'è stato il fuoco e la tregua, siamo stati veramente in pace e la gente ha cominciato a respirare un altro clima, un clima di ottimismo e dice ecco finalmente abbiamo finito, speriamo di continuare. Abbiamo passato un'ottima Pasqua e un afflusso molto di gente, si vedeva la gente contenta, la gente veramente proprio contenta e viveva in pace e la gioia di questi qui. Tanto è vero che hanno scritto a tutti i loro parenti che stanno fuori di Aleppo per invogliarli a ritornare. Quindi speriamo che anche i profughi della Siria tornino al loro paese. Però da 12 giorni fa hanno rotto questa tregua e di nuovo hanno preso i combattimenti e hanno preso anche i bombardamenti sui quartieri civili. E questa è la cosa più difficile che noi viviamo. La gente pacifica sta nelle loro case o nella loro scuola oppure nel loro lavoro o nella loro chiesa oppure nella moschea e si trova questi bombardamenti, questi obici, questi mortai che arrivano e seminano distruzioni e morti. Ieri è stata una giornata molto molto difficile per Aleppo. Si parla di 20 morti e un centinaio di feriti. E la cosa più difficile è questo, è più traumatizzante, che una famiglia sta nel suo appartamento, viene un mortaio, allora vedono tutto distrutto oppure danneggiato e non solo, è qualcuno della famiglia a morire avanti ai loro occhi di una morte molto violenta. Cioè anche le membre hanno un piede da una parte, la testa da una parte e così. E figuratevi il trauma di questa povera gente. Una volta una ragazza di 21 anni, di 21 anni col fratello di 19, stavano a casa, il fratello non so dove stava, e essa è entrata al bagno, è caduto il mortaio, è uscita fuori e ha trovato la mamma a pezzi. Questi non potevano più entrare nel loro appartamento, quindi abbiamo dovuto trovare un altro posto almeno momentaneamente affinché passasse un po' questo trauma. oppure ragazzi a scuola, giocare, oppure in classe, cade un mortaio, una esplosione, e questi ragazzi vedono i loro compagni morire avanti ai loro occhi, lo stesso di una morte molto violenta. Oppure passi per la strada, qualcuno a due metri avanti a te oppure dietro a te, muori da un'esplosione e tu sei miracolo, sei vivo per miracolo. Quindi questa è la difficoltà che noi abbiamo. E molte volte anche chiese e moschee sono viste. Nella chiesa parrocchiale c'era la messa serotina di domenica, la chiesa era piena di gente, alla comunione proprio sotto la cupola, avanzavamo per prendere la comunione, è caduto un missile, ha sfondato la cupola, la cupola e poi naturalmente tutte le cose sono cadute giù. Meno male che abbiamo avuto un solo ferito, un solo ferito. Ma quello che è più interessante, la gente ha continuato la messa e dopo la messa hanno detto al parroco adesso noi puliamo, finché domani diciamo la messa di nuovo in questa chiesa, in questa chiesa come segno di speranza e poi anche per continuare la vita, continuare la vita. Questo è qui. Adesso la situazione è anche, non abbiamo l'elettricità, l'elettricità che manca da sette mesi oramai. È venuta per due giorni a dire la verità, solo due giorni, e poi se ne è andata via. Cosa facciamo? Sono questi generatori, la gente ha comprato generatori elettrici grandi e la gente si fa l'abbonamento in modo di avere un po' di luce, di luce per qualche ora, per qualche ora. Questo è l'acqua, il problema dell'acqua. Ad Aleppo porta l'acqua dalle Eufrate e non mancava mai l'acqua, mai mancava l'acqua. Hanno cominciato purtroppo a tagliare l'acqua, cioè a più riprese. L'ultima volta siamo rimasti quasi due mesi senza goccia di acqua, cioè dal governo. Quindi potete figurare una città, era una città di almeno due milioni e mezzo, adesso sono un milione e mezzo di tutti i quartieri senza acqua. E lì meno male che abbiamo anche i pozzi nelle chiese, nei conventi e nelle moschee. Abbiamo aperto questi pozzi questi pozzi affinché la gente potesse venire a tingere l'acqua. Venivano quindi a prendere l'acqua e siccome l'acqua non mancava mai, non c'hanno i depositi, non c'hanno i serbatoi di acqua nelle loro case. Quindi li stiamo aiutando ad avere questi serbatoi di acqua. Dipende dal numero delle famiglie, o 250 litri o 500 litri. Li aiutiamo anche a... non solo li li diamo, e poi li aiutiamo a fissarli, a fissarli questo lago. Oltre anche il caro vita, il caro vita, e la disoccupazione. La disoccupazione no, perché la gente non vuole lavorare, ma la disoccupazione perché purtroppo quando sono cominciati questa guerra civile, a D'Alepo c'erano 43.000 aziende, fabbriche grandi e piccole aziende. Cosa hanno fatto? Hanno rubato le fabbriche, hanno preso persino i macchinari, i macchinari, e li hanno venduti in Turchia. E come hanno fatto anche col grano. La Siria è famosa per la produzione del grano. Hanno rubato il grano dai silos, e l'hanno venduto a due piastre in Turchia, e poi la città ha dovuto rimanere mesi e mesi con crisi di pane. Tanto per scherzare, così è una barzelletta, ma non è una barzelletta, il nostro sacrestano dice come facciamo a fare le ostie? Le ostie perché non c'è la farina. E io avevo degli amici naturalmente che hanno i pasticcieri, i pasticcieri, mi hanno procurato 50 chili di farina, di farina per dire ecco possiamo ora fare le ostie. E poi c'è stato il problema per la messa perché mancava poi il vino, portava il vino, e ringraziamo il Signore anche quello si è risolto in una maniera. Queste sono le difficoltà, e la gente ora, come anche a causa di questa lunga guerra, si trovano nella necessità più assoluta, più assoluta, nella necessità più assoluta in tutto. E noi lì come chiesa, lascio un'altra domanda. Come chiesa, ci sentiamo un dovere, un dovere di venire incontro a aiutare questa povera gente, e quindi l'aiuto che noi diamo, e questo lo diamo grazie a voi e grazie anche a molti benefattori che ci aiutano, altrimenti non possiamo fare fronte a tutto questo. Diamo un pacco alimentare mensile e quasi per tutte le famiglie. Aiutiamo per il vestiario, aiutiamo per l'assistenza medica e medicinali, aiutiamo per l'aiuto scolastico, scolastico, e aiutiamo anche queste famiglie la cui casa viene un po' danneggiata per trovare un altro posto. Insomma, è una difficoltà e la gente, sono ammirevoli veramente. Sopportano tutto, stanno sopportando. E poi, quando è mancata l'acqua, le ha fatte dimenticare tutte le altre difficoltà. Dice che ci diano l'acqua e ci basta. E ci basta. No? Tanto per dire. Ecco. Ecco, lei diceva prima aiutiamo tutti, senza differenze di etnia, di religione, di cultura, di età, di censo. Aleppo è stata per tanti secoli un esempio di come si può vivere insieme restando diversi. C'è qualcuno che pensa che quello che sta accadendo adesso ad Aleppo e più in generale in Siria possa mettere in discussione questa possibilità. E qualcuno proietta anche questo scetticismo anche sull'Europa, anche sull'Italia. anche in Italia siamo chiamati sempre di più dalla storia a convivere con chi è diverso da noi. Allora, prima se ci racconta qualche esempio come prima ci raccontava prima dell'incontro di come questa convivenza ancora tiene nonostante appunto ci siano divisioni anche tra le comunità e poi se ci aiuta a capire come questa convivenza può dire qualcosa alla sfida che noi stiamo affrontando qui in Italia. a dire la verità la Siria è stata sempre un paese di convivenza. Ci sono 23 gruppi differenti gruppi etnici e gruppi religiosi. Io li paragonavo a un bel mosaico a un bel mosaico vivono tutti insieme e finora dove c'è ancora il governo questa convivenza anzi si approfondisce sempre di più sempre di più. ma purtroppo dove l'Isis oppure il Nusra il Nusra è il ramo del Qaeda di Bin Laden del Qaeda in Siria questa qui è il Nusra e altri gruppi dove sono arrivati hanno fatto una polizia etnica etnica non solo contro i cristiani ma contro altri gruppi anche etnici oppure religiosi che sono differenti non la pensano e non si comportano come loro come loro e per questo noi troviamo gli Yazidi per esempio e altri gruppi l'hanno cacciati via e l'hanno avete visto hanno ammassato gli uomini hanno preso le donne e i bambini e l'hanno venduti come schiavi come schiavi e purtroppo avanti agli occhi di di qualche potenza straniera di qualche potenza straniera questo è il fatto in Aleppo continua questa convivenza noi i cristiani vivono in quartieri loro cioè quasi a maggioranza cristiana e i musulmani in quartieri a maggioranza a maggioranza musulmana questi gruppi hanno occupato quasi tutti i quartieri della periferia e quindi abbiamo avuto anche noi un afflusso di un afflusso di questa gente di questa gente di diciamo non cristiani ai nostri quartieri ai nostri quartieri ma però per noi è più facile perché abbiamo la stessa lingua la stessa cultura e tutto il resto e lì li abbiamo accolti li abbiamo accolti nelle nostre scuole li abbiamo accolti anche nelle nelle case e in tutto in tutto e lì c'è stato questo bel incontro bel incontro anche gli altri ci hanno conosciuto ci hanno conosciuto perché prima sì viviamo nella stessa città o nel nostro paese ma non si non si conosceva non si si conosceva da vicino e lì hanno ci hanno dice eh ma voi veramente siete siete altri siete differenti e quindi piano piano questo questo contatto questo contatto diretto è diventato più una una amicizia una una cosa e tutti quanti diciamo va bene ma perché non allora se siamo uguali se siamo uguali perché non dobbiamo essere uguali anche per esempio nel governo e quando vedono un cristiano partire dice per favore veramente ci pregano per favore non partite non lasciateci soli non lasciateci soli quindi a noi ci fa pensare come i cristiani quindi non siamo più una minoranza da niente vuol dire che abbiamo la nostra anche necessità e importanza nel nella società e a loro che hanno scoperto in noi il volto il volto soprattutto caritatevole del cristianesimo e della chiesa è diventato quasi un'attrazione e un modello un modello per loro per esempio per la GRS Jesuit Relief Services gestita dai padri gesuiti ha allestito una cucina aiutata da decine e decine di volontari volontari musulmani e cristiani dove sono arrivati a fare 35.000 pasti al giorno 35.000 pasti ora stanno facendo 12.000 pasti al giorno e sono aiutati oltre dal di fuori aiutati dalla mezzaluna mezzaluna rossa siriana e soprattutto da benefattori musulmani musulmani che hanno la possibilità e quindi loro aiutano aiutano per comprare i generi alimentari e soprattutto aiutano per avere il gasolio il gasolio o il gas necessario che non sempre si trova e non sempre si trova a buon prezzo quindi questa collaborazione veramente c'è noi al vicariato abbiamo un un locale un locale che doveva essere la casa per le studentesse ma con queste guerre con queste guerre non sono venuti più era era vuoto e intanto un ente musulmano aveva una bella struttura dove aveva gli orfani aveva i handicappati e aveva gli anziani questo questo locale loro la struttura è diventata proprio linea di fronte c'erano subito questi uomini uomini armati gruppi armati quindi è diventato pericoloso le hanno dovuti togliere farle scappare proprio di emergenza non sapendo dove andare allora hanno parlato a noi e il vescovo il mio predecessore mi ha parlato ha detto li mettiamo nel nostro locale e li abbiamo ospitati nel nostro locale per un anno e otto mesi e questo locale si chiama Gesù operaio quindi tu vedevi questo ceic gli domandavano dove vai dice vado da Gesù operaio da Gesù operaio quindi è stato anche questo è un bel segno proprio visibile di questa di questa collaborazione e speriamo che continui e questo forse il nostro ruolo come cristiani essere aperti a tutti a tutti e loro e loro ammirano molto questo stimano e siamo l'unico gruppo noi in Siria in Siria religioso che è capace di fare di avere le relazioni le relazioni con tutti gli altri con tutti gli altri altrimenti noi vediamo altri gruppi per esempio sciiti e sunniti uno contro l'altro non so il druso non parla con la lauita la lauita non parla non so con il kurdo questo invece noi siamo quasi il mezzo di tre di unione come si dice in italiano vuol dire di collegamento di unione e pregate quindi anche per noi pregate anche per noi finché noi possiamo veramente fare questo svolgere questo ruolo questo ruolo grazie ecco questo proposito c'è stato un episodio recentemente che ha provocato un po' di discussioni anche anche tra i cristiani la visita del Papa a Lesbo nell'isola di Lesbo si è conclusa con questo gesto molto forte del Papa che ha deciso di invitare invitare in Italia a spese del Vaticano tre famiglie di profughi che erano a Lesbo tre famiglie tutte e tre musulmane e qualcuno in Italia ha eccepito dicendo ma visto quello che stanno passando i cristiani in Siria non era il caso che almeno una famiglia fosse cristiana e non ci fossero solo tre famiglie musulmane ospitate lei che giudizio dà del gesto del Papa e che effetto ha fatto questo gesto nella comunità musulmana sicuro non sarà il Papa ad escludere i cristiani questa è una cosa e poi anche secondo il Papa stesso lui si ha portato dentro queste famiglie perché avevano le carte in regola che potevano entrare anche in Italia e se avesse trovato una famiglia cristiana con le carte in regola in regola li avrebbe accompagnati anche lo stesso anche loro quindi non è stata una esclusione ma però questo gesto è stato anche ben visto almeno dai musulmani e dal mondo musulmano dal mondo musulmano e hanno percepito veramente diciamo la natura l'essenza la delicatezza hanno detto ecco se questo qui è un cristiano che noi diciamo che è infedele infedele ci fa tanta carità tanta carità perché non lo dobbiamo fare noi cioè sta facendo ciò che noi non stiamo facendo per i nostri fratelli e quindi hanno ammirato questo gesto e poi un gesto simile un gesto simile come si dice se giocando a calcio allora facciamo rete noi cioè come cristiani quindi ha rafforzato un po' la nostra posizione come cristiani come cristiani e come e la nostra missione come cristiani anche è quello che diciamo e predichiamo quindi si mette anche in pratica è stato veramente molto ben visto e molto ben apprezzato questa modalità di stare insieme che lei ha descritto e che appartiene alla tradizione alla storia della Siria che lezione dà che spunti che suggerimenti dà a un paese a una società come quella italiana che da molto meno tempo ma in maniera molto forte soprattutto negli ultimi anni si sta misurando con la presenza dell'altro cioè con la presenza di identità culturali etniche anche religiose diverse e che sta provocando discussioni problemi anche tentazioni di rifiuto di questa presenza nuova che però si fa sempre più importante sempre più consistente cioè che tipo di lezione viene dalla vostra storia anche la storia sofferta di questi anni certo anche da noi non è stato facile non è stato facile noi abbiamo passato già secoli e secoli quindi l'Islam è entrato in Siria nel 600 quindi da 1400 anni che siamo insieme e a dire la verità non è sempre che la storia sia sempre stata liscia le relazioni lisce alcuni periodi era un periodo pacifico liscio una una stima reciproca e tutto il resto ma anche se sono stati anche momenti momenti difficili difficili di sofferenza persino anche di di persecuzioni per noi era più facile perché noi parliamo la stessa lingua abbiamo la stessa la stessa cultura quindi il compatto è meno cioè insomma è più facile è più facile adesso ammettiamo noi siamo in questa sala abbiamo un centinaio di gente estranea che viene non capiamo cosa vogliono e cosa fanno non cominciamo a fare tutti quanti un po' restiamo solattenti tutti quanti abbiamo un po' di paura ma io per me sinceramente non dobbiamo avere paura cioè siamo aperti perché alla fin fine anche guardando il punto di vista cristiano noi siamo tutti fratelli il Signore ha creato tutti e il Padre di tutti quanti e se Lui ha permesso questo qui ci aiuta a trovare il modo di stare di stare insieme però però anche non non aver paura non e non sì non temere di di presentare voi stessi e la vostra identità e quello che siete quello che siete e quando vengono da voi fateli rispettare anche le vostre leggi le vostre leggi per me è molto importante è molto importante perché loro scappano non solo per ragioni economiche ma scappano anche per ragioni un po' diciamo sociali di una pressione che fa non so questo governo o l'altro non solo pressione politica ma la pressione religiosa che stanno su di loro quindi sono tante tante vie credo tante vie per non so di intesa o per inserirli anche non sono io che posso giudicare veramente non sono io che posso giudicare io posso dire quello che stiamo facendo noi lì ecco a proposito del comportamento dell'Europa l'Europa dopo i primi giorni di protesta nel marzo del 2011 ha preso decisamente posizione per il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad ha condiviso la decisione di porre sanzioni nei confronti della Siria sanzioni che poi magari ci potrà anche lei raccontare gli effetti che stanno provocando sulla vita della popolazione e non solo sullo Stato e sul governo come giudica lei la posizione in questo momento dell'Europa che solo in parte si sta ricredendo dopo aver visto anche come la situazione in Siria è precipitata come si è rischiato si sta rischiando di passare da uno Stato sostanzialmente laico a uno Stato monoreligioso a uno Stato confessionale in mano a gruppi che hanno un'interpretazione radicale fondamentalista esclusivista come lei ci raccontava prima della cultura e della religione islamica che giudizio dà a lei dell'atteggiamento del comportamento dell'Europa voglio carire una cosa prima cioè quello che sembrava una protesta per dei diritti diritti umani per diritti civili neanche 24 ore dopo si è rivelato si è rivelata una rivoluzione armata armata che ha coinvolto credetemi 24 ore dopo hanno trovato le armi nella moschea hanno trovato questi gruppi qui e lì che hanno cominciato poi tutta questa guerra che ha coinvolto i paesi limitrufi che ha attirato anche migliaia e migliaia di combattenti stranieri un po' da tutto il mondo da tutto il mondo lì e lì stavano trovati che l'occidente voleva a tutti i costi far cadere il regime loro dicono l'Assad sotto la scusa che è un dittatore e noi dicevamo abbiamo detto sicuro adesso l'Assad non è la regina d'Inghilterra ma però non è l'unico dittatore al mondo prima di tutto se lo è se lo è e abbiamo detto noi ci hanno accusato come chiesa che noi appoggiamo il regime abbiamo detto noi non appoggiamo un regime non appoggiamo una persona noi noi difendiamo il paese difendiamo i valori i valori che rappresenta la Siria perché la Siria è l'unico paese nel mondo musulmano che è mezzo laico che è pluralista che è aperto a tutti gli altri dove tutti tutti quanti tutte le minoranze e tutti i gruppi religiosi sono liberi liberi nella loro cultura e liberi anche nel praticare la loro la loro fede le loro religioni tanto per dirne una quando abbiamo assistato adesso il nuovo diritto canonico e il diritto per le chiese orientali hanno rinnovato tutte queste leggi che trattano di persone del matrimonio e tutto il resto in Siria è l'unico paese al mondo che ha adottato questi canoni questi canoni questi articoli del diritto canonico sia orientale sia occidentale per i cristiani per i cristiani quindi questa è una cosa veramente che non succede in nessuna parte credo neanche qui in Europa è successo in nessuna parte e quindi hanno lasciato quello che riguarda il matrimonio ai tribunali ecclesiastici che hanno poi il loro come si chiama il giudizio che danno che ha effetto civile sì che ha effetto anche civile e poi secondo il diritto canonico della chiesa sia occidentale sia sia orientale quindi è una cosa veramente questa qui e noi diciamo è questo che noi difendiamo va bene fate cadere l'assad che cosa è l'alibi ma per farlo dopo di lui cosa succede infatti abbiamo visto cosa è successo nell'Iraq cosa è successo anche in Libia in Libia non vogliamo il caos ma purtroppo la condalessa Reis lo diceva diceva voglio il caos creativo cioè creare il caos per creare non so che cosa forse è il padre eterno non lo sappiamo infatti c'è stato il caos c'è stato il caos ma senza niente di nuovo quindi noi siamo siamo d'accordo che si mettono trattano insieme dialoghino si mettono d'accordo per la forma di governo che vogliono e poi facciano quello che vogliono ma almeno che sia qualche cosa che tenga non guardiamo nel vuoto e non cadiamo nel caos e noi quello che volevamo dall'Europa noi molti legami lega l'Europa all'Oriente all'Oriente perché non solo siamo vicini di casa siamo il Mediterraneo perché in molti paesi l'Europa soprattutto i francesi e gli inglesi hanno avuto il mandato hanno governato la Siria la Palestina la Giordania l'Iraq e il Libano quindi c'è stato sempre un legame molto più forte e non solo noi sono milioni di quella gente che hanno studiato in Europa quindi sono sono lì con la cultura dell'europea e tutto il resto quindi si aspettavano dall'Europa un gioco veramente che combaccia come si dice che va insieme a questi ideali che loro hanno imparato in Europa si aspettavano anche un ruolo indipendente dell'Europa per l'Europa indipendente che sia un ruolo di pace ma non essere scusate dipendenti non solo da chi ha altra potenza questo noi ce l'aspettavamo e poi non solo subito hanno rotto le relazioni diplomatiche e noi a Venezia per esempio e la Francia avevano rappresentanze diplomatiche nelle città di Aleppo dal 1500 quindi è tutta una storia e noi a un certo momento abbiamo visto che è un taglio proprio netto netto tra la storia e tra il presente ecco a proposito del futuro lei diceva vedremo quale governo e quale stato uscirà da questo conflitto lei prima ci diceva prima dell'incontro da cristiani vogliamo uno stato laico ecco ci spieghi che cosa vuol dire questo perché alcuni per esempio pensano anche nel futuro a una divisione della Siria in base alle appartenenze etniche o religiose voi invece da cristiani dite vogliamo uno stato non confessionale ma uno stato laico che è la migliore garanzia per la convivenza perché certo speriamo speriamo che non si arrivi a una divisione veramente della Siria perché queste divisioni in piccoli staterelli oppure per piccoli gruppi non so più che portare la pace ecco si semina lì si semina che cosa proprio il seme di una di una lotta continua saranno dei staterelli così che fanno lotta a vicenda che non possono essere mai indipendenti del tutto sempre dipendenti da qualcuno che profitta di loro e profitta anche della loro ricchezza della loro ricchezza mentre noi vogliamo veramente una Siria unita ma una Siria moderna moderna e di questo non solo noi come cristiani che la vogliamo ma molti quasi tutti i musulmani moderati vogliono anche questo e noi vogliamo una diciamo una Siria laica non confessionale che l'appartenenza alla patria sia la cittadinanza non sia tramite un gruppo religioso perché io sono cristiano mi tocca questo e tu che sei musulmano ti tocca quello no che tocchi a tutti quanti quello che deve toccare uguali nei diritti e uguali nei doveri e di questo e questo se arriva a questo vuol dire tutte le sofferenze che noi abbiamo fatto che la gente sta sopportando quindi vale la pena vale la pena vuol dire già avremmo come si chiama conseguito una bellissima cosa e di questo parla anche il gran mufti persino della Siria quindi il religioso dice anche noi vogliamo lo stato laico vuol dire laico non vuol dire contro la religione vuol dire no vuol dire rispetto a tutte le religioni e rispetto a tutti i gruppi e tutti quanti siamo uguali e credo una volta che io sono uguale a te e tu sei uguale a me non c'è più ragione di combattere tra di noi due è una soluzione e poi sarà anche un esempio un esempio nel mondo arabo e nel mondo musulmano di cui veramente noi abbiamo bisogno 35 mila medici se ne sono andati dalla Siria in questi anni tantissimi professionisti anche operatori imprenditori ceto medio se ne è andato quelli che avevano più possibilità se ne sono andati per primi la Siria quindi sta perdendo la sua classe dirigente sta perdendo gran parte del suo capitale umano non solo numericamente ma anche qualitativamente lei pensa che nella diaspora nelle comunità che si sono costituiti all'estero prevale il desiderio comunque di tornare oppure si dà per spacciata questa possibilità anche di tornare a convivere di tornare a ricostruire la Siria cioè la Siria potrà tornare a ricostruirsi con i siriani o in quelli che se ne sono andati prevale il desiderio di restare dove sono quello che è sicuro che tutte queste gente che sono andati forzati di andare via tutti quanti hanno la voglia anche di tornare di tornare una volta una volta cioè le cose si mettono in pace la Siria riprende e tutto il resto però noi abbiamo anche punti interrogativi qui tutti quelli che i siriani che sono rifugiati fuori della Siria per mezzo delle Nazioni Unite per mezzo delle Nazioni Unite c'è stata la condizione di consegnare il passaporto e non tornare in Siria prima di cinque anni se noi non abbiamo saputo spiegare il perché l'unica spiegazione vuol dire spiegazione è stata impedire a questa gente di tornare questa tornare questa la Siria è un popolo veramente che lavora sono lavoratori duri e ogni volta che hanno messo l'embargo sulla Siria sulla Siria la Siria ha tenuto perché la gente si accontenta di poco e lavora molto e lavora molto in Siria c'è l'insegnamento gratis dalle classi proprio più piccole fino all'università all'università e quindi lì non c'è un povero o un ricco oppure uno potente o l'altro meno potente chi è bravo si fa si fa la strada per questo noi abbiamo centinaia di migliaia di gente che ha finito l'università l'università e in questa crisi naturalmente hanno cominciato a scappare e i primi purtroppo questa gente coltivata questa gente preparata e soprattutto i giovani i giovani per vari motivi per vari motivi stanno lasciando quindi noi siamo la Siria perdendo queste due categorie la gente preparata e i giovani e i giovani quindi siamo diventati come una famiglia o stiamo diventando speriamo di no come una famiglia di anziani senza figli senza figli quindi chi va poi a ricostruire la Siria ma la Siria è un paese anche ricco ricco agricoltura ricco in petrolio in altri minerali e questo quindi non le manca niente alla gente di là la Siria la gente mai è scappata dalla Siria la Siria mai ha esportato profughi eccetto in questa ultima crisi ma la Siria sempre ha ospitato i profughi ha ospitato i profughi armeni all'inizio del secolo scorso centinaia di migliaia ha ospitato i profughi palestinesi 500.000 profughi palestinesi nel 1948 ha ospitato un milione e mezzo di profughi iracheni durante le due guerre del Golfo ha ospitato i profughi libanesi durante la guerra civile libanese e ha ospitato migliaia e migliaia di profughi sudanesi durante la lunga guerra tra nord e sud li ha assimilati senza fare nessun campo di profughi nelle scuole nel lavoro in tutto in tutto perché aveva la possibilità di farlo la possibilità di farlo adesso si trova come ha detto bene lei con mezza popolazione che è profuga fuori e quindi noi speriamo e molta gente forse vorrebbe tornare e voi ci diceva prima state anche aiutando materialmente gli studenti universitari che magari non hanno un luogo dove poter studiare li state ospitando anche nelle vostre strutture ci parlava di 180.000 iscritti all'università solo ad Aleppo sì ad Aleppo prima di questa guerra civile c'erano all'università di Aleppo 185.000 iscritti all'università all'università quindi la maggioranza della città e altri fuori della città quelli fuori della città venivano ospitati in case dello studente fatti dal governo quasi gratis quasi gratis e anche noi abbiamo le case soprattutto per le studentesse che vengono un po' dalla Mesopotamia cioè dal nord-est della Siria della Siria per ospitarli e sono ragazze quindi i genitori non li lasciano ovunque non li lasciano ovunque e adesso anche nell'aiuto che si dà aiutiamo anche molti di questi studenti perché è vero che lo studio è gratis però uno studente sempre ha bisogno di tanti bisogni e quindi noi cerchiamo di venire lì incontro e siccome manca anche la luce l'elettricità abbiamo aperto tutte le nostre come si chiama strutture strutture per ricevere questa gente a studiare venire a studiare magari vengono il pomeriggio studiano e poi tornano a casa e persino abbiamo affittato anche degli appartamenti con dei generatori affinché soprattutto gli universitari tutti quanti i suoi cristiani e non cristiani venire lì studiare e non solo anche incontrarsi e discutere conoscersi a vicenda e se hanno qualche domanda anche perché molti adesso vogliono sapere molto di più solo il cristianesimo lo possono fare fuori le mura della chiesa o del convento o queste vengono più libertà alcuni studenti sono migliaia di studenti sono anche fuori a studiare in Europa negli Stati Uniti e ci diceva prima che una delle conseguenze devastanti dell'embargo è che non possono più ricevere aiuti economici per continuare gli studi magari ci può raccontare anche quali sono le conseguenze sulla popolazione civile di questa misura dell'embargo qualche esempio di come la vita è stata paralizzata da questi provvedimenti lo sapete in Siria adesso hanno imposto l'embargo sull'embargo le sanzioni contro la Siria e questo embargo chi ne soffre chi ne soffre di più non sono questi del governo o gli altoposati o questo come capita sempre e sono e la povera gente la povera gente a D'Alepo per esempio fa freddo questo inverno ha fatto 15 gradi qualche notte sotto zero e la gente non aveva un litro di gasolio per riscaldarsi e alcuni credetemi vi dico una cosa terribile hanno bruciato le scarpe per riscaldarsi e questo a causa dell'embargo dell'embargo e poi andiamo tutti in giro a mendicare i primi anche sono le Nazioni Unite per aiutare i profughi o aiutare questa povera gente che sta dentro la Siria mentre abbiamo centinaia di migliaia di siriani che prima della guerra lavorano fuori sono benestanti e tutto e non possono mandare una piastra in Siria a causa dell'embargo per aiutare i loro parenti e ci sono anche decine di migliaia di studenti con le borse di studio del governo che studiano in Europa o in America del Nord in America del Nord che hanno dovuto cessare non continuare i loro studi perché il governo era proibito che esporti la moneta e paghi paghi all'estero a causa dell'embargo ci sono dei segni di speranza in questa tragedia che la Siria sta vivendo uno di questi segni ci raccontava lei prima è l'apertura delle porte sante in alcune città della Siria tra cui Aleppo che cosa rappresenta in questo anno giubilare dedicato che ha messo al centro il tema della misericordia che cosa rappresenta questo tema questo spunto per la popolazione siriana non solo per la popolazione cristiana siriana che cosa sta muovendo questo anno santo nel vostro paese ad Aleppo in particolare la speranza è una virtù eologale che è come la fede per dire la speranza vuol dire come uno eretico che diventa eretico per noi cristiani e quest'anno della misericordia abbiamo voluto anche noi aprire delle porte sante prima di tutto perché tutti quanti abbiamo bisogno della misericordia di Dio non della misericordia di Dio e anche per dare una risposta a questa povera gente i nostri cristiani perché molte volte si domandano dove stai o Dio perché si mettono si fanno tante domande e ha ragione noi quest'anno cerchiamo anche di far convincere di più che il nostro Signore è il clemente il misericordioso lui che è il providente lui che non si lascia mai anche nelle difficoltà appunto come dice Isaia può una madre dimenticare il figlio che ha concepito anche se queste donne dimenticano i loro figli io non vi dimentico perché siete miei e ho disegnato alle palme della mia mano quindi noi vogliamo questo e non solo noi parlando più di misericordia e anche mettendo degli affisch abbiamo fatto molte attività in quest'anno anche per far sentire che c'è una parola che si chiama misericordia in uno che in un cuore che è senza misericordia che ammazza l'altro senza misericordia quindi c'è qualche cosa di altro c'è qualche c'è un un alibi e dei segni di speranza ce li abbiamo nella comunità stessa e questo ci consola è vero che la comunità cristiana soprattutto ad Aleppo e in Siria è stata decimata quindi diminuita tanto di numero di numero ma credo che siamo andando un po' più in profondità quello che stiamo perdendo in numero lo stiamo acquistando in profondità per esempio c'è più condivisioni più condivisioni e la condivisione non del superfluo ma del proprio necessario perché nessuno ha il superfluo oramai lì c'è il necessario ho dato qualche esempio per esempio uno che sta portando due bidoni di acqua li porta da lontano con tanta fatica li porta al terzo quarto quinto piano e trova il vicino magari ammalato oppure anziano che non lo può fare e lo sta dando un bidone di acqua ha dato proprio del suo necessario oppure oppure uno ha fatto l'abbonamento a un generatore elettrico c'è il vicino di casa che non l'ha potuto fare gli sta passando almeno un cavo per una lampada e per accendere la televisione ha dato del suo necessario e noi visto la necessità di alloggiare queste famiglie le cui case vengono danneggiate abbiamo chiesto a queste famiglie che lasciano e migrano e scappano abbiamo detto ma perché non ci date le chiavi delle vostre case e alcuni lo stanno facendo non tutti alcuni lo stanno lo stanno facendo quindi ci lasciano la chiave del loro appartamento e noi quando c'è una famiglia che dobbiamo spostare e sono quasi ogni giorno abbiamo qualche duna quindi abbiamo un posto per alloggiarla e questa credo è una cosa nuova non tutti la fanno e la cosa più commovente a me mi commuovi sempre ogni volta che passo ti parlano di perdono di perdono non al 100% ma credetemi almeno all'80% ti parlano di perdono e perdonare chi? perdonare questi gruppi che li bombardano non è facile già il perdono di per sé figurati quando uno sta sotto le bastonate e perdona e pregano pregano per la conversione di questa gente senza quel rancore non c'hanno quel rancore nel cuore e credo noi grazie a questo il Signore ci benedirà e forse qualche frutto noi già l'abbiamo avuto e speriamo di averlo il Santo Padre dice voi state facendo l'ecominismo di sangue di sangue quindi siete uniti siete uniti le varie chiese le varie chiese cristiane siete uniti nel vostro sangue che viene mescolato l'incontro storico tra il Santo Padre e il Patriarca di Mosca forse noi abbiamo contribuito un pochino come cristiani di là perché una settimana prima dell'incontro il Patriarcato di Mosca ha fatto questo comunicato di stampa dice il momento non è arrivato per questo incontro è vero perché la ferita ancora è sanguinante però la condizione in cui vivono i cristiani del Medio Oriente ci spinge a questo incontro quindi è un incontro molto importante per la Chiesa universale ecumenico ecumenico e noi forse senza saperlo neanche ma grazie alle nostre sofferenze abbiamo contribuito e speriamo di contribuire molta gente adesso si domanda voglio sapere molto di più del cristianesimo di questa religione che fa queste cose perché loro ci vedono e quindi e per questo io vi prego di pregare per noi affinché noi possiamo presentare veramente il vero volto di Cristo riflettere il vero volto di Cristo affinché noi non presentiamo noi stessi ma presentiamo il Cristo Salvatore affinché loro vedano in noi e tramite noi quello che stanno cercando veramente e poi noi quello che anche ci dà più speranza i discepoli sono stati chiamati cristiani per la prima volta in Siria ad Antiochia di Siria no Saul è stato convertito dove? alle porte di Damasco quindi il principale persecutore della Chiesa è diventato il maggiore evangelizzatore del cristianesimo e il Signore è capace di tutto speriamo di meritarlo è ancora una domanda poi se qualcuno dal pubblico vuole rivolgere qualche domanda a sua eccellenza possiamo dargli la parola la domanda riguarda l'Isis questo grande spauracchio che adesso fa paura anche in Europa perché ha colpito da tempo ormai anche nelle nostre città e potrebbe colpire anche più da vicino rispetto a quanto ha colpito finora Parigi Bruxelles ma si si pensa anche a possibilità più vicine anche in Italia l'Isis ha dentro al suo interno siriani iraccheni milizie che vengono da fuori da molti paesi islamici medio orientali asiatici e anche giovani giovani che vengono arruolati sia nei paesi medio orientali sia in Europa c'è una sorta di fascino che questa proposta esercita sui giovani qual è l'origine secondo lei di questo fascino al di là della motivazione che molti propongono cioè il fatto che comunque i miliziani dell'Isis sono ben pagati e molto meglio pagati ad esempio dei soldati dell'esercito siriano però ultimamente qual è la molla che può portare questi giovani ad aderire a un sogno violento a un sogno ultimamente nichilista come quello dell'Isis secondo lei certo le motivazioni sono sono molte sono motivazioni anche religiosi ideologiche ideologiche di un interpretazione molto radicale dell'islam dell'islam che molti musulmani dicono non è questo l'islam cioè non è il vero islam ma che loro la portano non so dal deserto dal deserto questa è una motivazione e poi loro certo pagano pagano e pagano salato cioè di fronte a un soldato a un soldato seriano soprattutto se durante perché c'è il servizio militare obbligatorio gli anni di servizio che non guadagnano che non guadagnano niente e a quelli lì danno magari un 1500 dollari al mese quindi in questo contesto di povertà molta gente va lì e poi gli permettono mari e monti gli permettono anche se basta lì un giovane va lì e può sfogarsi in tutto in tutto anche se lui è violento può esercitare la violenza se lui sta cercando scusate se esso trova quello che trova quello che vuole se vuole rubare trova la possibilità di rubare e quindi in questo sta motivando sta motivando e purtroppo come ha detto bene lei sono giovani soprattutto questi arruolati dall'Europa e dall'America e dall'Australia sono giovani tra 18 e 22 anni e 22 anni e poi anche loro hanno tutta un'altra visione di morire lo chiamano martirio cioè se muoiono sono martiri e al martire al martire toccano 70 donne appena arriva sopra sì e queste altre cose quindi loro le cose che non possono avere qui avere qui le possono avere facilmente lì quindi non vedono il momento di andare su e questo l'hanno l'hanno seminato in testa il lavaggio del cervello e quindi sono pronti a tutto sono pronti a tutto ma credo è stata una una vipera però che hanno aiutato a crescere nel proprio seno no nel proprio seno e molti l'hanno aiutato a crescere questa questo ISIS ISIS in in vari modi molti chi molti adesso ti dico chi e poi indovinerà io ti dico e tu devi indovinare va bene ecco il petrolio adesso loro hanno preso cioè hanno occupato più nell'Ira che nella Siria la parte più ricca del dove sono del petrolio e stanno estraendo il petrolio e lo stanno vendendo hanno cominciato a vendere a 10 dollari il barile tramite vanno tutto tramite la Turchia e chi lo sta comprando di lì stanno e soprattutto e questa è la cosa più che a noi veramente fa male cioè ci rattrista veramente stanno stanno vendendo tutto il tesorio tesoro culturale e archeologico dell'Ira e della Siria e della Siria hanno messo mano su tutti i musei quello che hanno potuto vendere lo stanno vendendo e certo non sono né i somali né quelli del Mali né quelli del Mauritania che stanno comprando questo tesoro archeologico si sa bene chi lo sta e quello che non possono vendere avete visto come lo stanno distruggendo lo stanno distruggendo quindi basta non comprare non aiutare a questo credo e non armarli più non permettere che questi armati arrivino e già si risolve una gran parte del problema ultima domanda sempre su questo poi lascio la parola a qualcuno del pubblico che se vuole intervenire sempre su questa vicenda dell'Isis guardandola dal punto di vista di noi europei quindi la motivazione economica in questo caso tiene poco credo mi ha colpito un'intervista rilasciata poche ore dopo la strage del Bataclan a Parigi a uno dei sopravvissuti che parlando con un collega della radio nazionale francese ha spiegato come ha vissuto queste due ore con la canna del Kalashnikov puntata alla gola perché era stato incaricato di fare da portavoce per le trattative tra i terroristi e le teste di cuoio che stavano per fare irruzione nel Bataclan dove peraltro era già stata fatta la strage di cui sappiamo e leggo solo due battute due battute tra il giornalista e questa persona che si chiama Sebastien il giornalista chiede cosa avete imparato da questa storia così straordinaria che vi è capitata sappiamo che siete stati per due ore con un Kalashnikov puntata in faccia cosa avete imparato Sebastien e lui risponde ho imparato che la vita è appesa a un filo e che c'è bisogno di apprezzarla e che non c'era niente di più serio che il fatto che noi eravamo ancora vivi e la seconda domanda che gli fa il collega è cosa avete imparato da loro dagli aggressori non molto se non che avevano bisogno di un ideale che il mondo occidentale in cui vivevano dato che erano chiaramente francesi si esprimevano in francese il mondo in cui vivevano non ne offriva uno e hanno trovato un ideale mortifero di vendetta e di odio e di terrore mi ha colpito questo perché appunto qui non ci sono motivazioni economiche politiche c'è la motivazione di qualcuno che non trova risposta a domande che stanno nel cuore di ogni persona e non trovando questa risposta si affida forse alla risposta più facile questo forse ci chiede che tipo di proposta noi siamo capaci di fare ai giovani che vivono in Europa ai nostri figli e a coloro che vengono ad abitare qua anche provenienti dalle vostre terre quindi che responsabilità abbiamo di fronte a loro certo tutti questi profughi che vengono in Europa sia dal Nord Africa sia dall'Africa sia dal Medio Oriente hanno molto forte il senso religioso anche se non sono praticanti ma hanno forte il senso religioso hanno forte anche il valore dell'amicizia e una volta che tu sei amico con loro difficilmente ti tradiscono anzi sono pronti a fare dei sacrifici per per l'amico per l'amico credo questo senso religioso e questo l'amicizia noi lo possiamo dare e lo possiamo anche mostrare a loro perché loro vedono in noi nell'Occidente ecco l'Occidente è ricco e loro sono i poveri vedono nell'Occidente non so lontano da Dio e lontano dalla religione questo che lo vedono è loro e loro sono i religiosi e dal punto di vista loro religioso religioso possono anche chi combattere chi non è chi non è fedele chi non chi non c'è la fede non c'è la fede credo lì bisogna bisogna arrivare credo a testimoniare anche qualche cosa di voi stessi vuol dire presentare non so Dio non costringere non non profittare della loro necessità per costringere a fare qualcosa o convertirsi ma però che vedono in voi una strada che conduce a un'altra via a un'altra ambiente in cui loro vivevano e sono scappati proprio da quell'ambiente cioè che trovano forse qualche cosa anche più che riempia il cuore ci sono domande prego arriva il microfono sono molto commosso di quello che ho sentito Monsignor Hasim due domande i musulmani sono il 90% della popolazione cosa fanno loro per rapporto a quello che i cristiani fanno per tutti senza eccezione i musulmani hanno questo stesso atteggiamento anche verso i cristiani verso tutti senza discriminazione e se mi consente sul Rahma la misericordia è un bellissimo ponte tra Islam e cristianesimo come è stato visto questo da parte dei musulmani qui non abbiamo sentito parlare di questo a me interessa molto grazie appunto proprio questa Rahmi Rahmi in arabo misericordia e la parola l'origine viene dal utero viscere dal Rahm vuol dire avere Rahmi avere misericordia proprio volerlo bene con tutte le viscere proprio come la mamma e di là e di là viene il Rahmi dal Rahm certo lì almeno adesso vi parlo della Siria dell'esperienza loro vedendo questi cristiani vedendo la loro carità la loro Rahmi proprio verso di loro stanno dicendo voi siete differenti siete non siete come noi ma in senso positivo vuol dire voi avete qualche cosa che noi non abbiamo che non abbiamo e speriamo che questo che questo qui semine in loro anche proprio questa misericordia di trattare gli altri sono molti di loro a dire la verità moltissimi in tutto il mondo musulmano c'è gente molto buona molto buona che aiutano tutto e il resto e purtroppo ci sono gli altri più radicali che stanno rovinando un po' un po' credo siamo noi il primo Vangelo cioè loro non diventano perché hanno imparato ma credo diventano perché hanno visto e speriamo che vedano in noi in noi quello che loro hanno bisogno c'era una domanda lì in quarta fila sì lei che ha il coraggio di vivere in Siria quanto pensa che durerà ancora questa guerra cioè quando arriverà la pace secondo lei seconda domanda noi ci chiediamo come sia possibile vivere in queste condizioni in altre parole ci sono ancora industrie artigianato commercio o la gente non riesce più a operare e deve sperare solo negli aiuti internazionali ad Aleppo non ci sono più né industria né artigianato e il commercio si è ridotto quasi a zero e la la gente si trova in estrema necessità per questo ho detto prima le forme di aiuto che noi stiamo dando alla gente alla gente anche loro attaccati al loro paese attaccati alle loro case i poveretti si accontentano di poco come vi ho detto non vogliamo più niente ma solo dateci l'acqua tanto la loro sofferenza noi speriamo che questa lunga guerra non duri più a lungo non duri più a lungo adesso abbiamo un segno di speranza abbiamo ginevra si riuniscono lì e cominciano un po' a dialogare anche se uno lontano dall'altro ma si vede che tutti quanti lo vogliono perché tutti quanti sono stancati non vogliono più sapere della guerra tanta è la sofferenza e ogni giorno abbiamo credetemi fiumi di sangue morti sono decine e decine ogni giorno da tutte le parti gente che muore gente che soffre distruzioni naturalmente finito non vogliono sapere più di questo non vogliono neanche sentire di più parlare quindi sono arrivati a un punto diciamo si accontentano di un compromesso purché finisca e noi per noi questa di ginevra è un gran segno di speranza perché in parallelo alle trattative di ginevra c'è un altro processo sul terreno che questo è molto più importante e molto anche più pratico perché a dire la verità i russi stanno spingendo tutti quanti tutte le parti a queste trattative e dice chi non accetta la tregua noi lo bombardiamo quindi se non sono convinti almeno c'hanno paura di farlo di farlo che cosa? allora c'è un processo di riconciliazione interna molti villaggi centri cittadini piccole città stanno dicendo a questi gruppi armati per favore lasciateci in pace noi non vi vogliamo più non vi accogliamo più tra di noi perché li avevano accolti e aiutati e tutto il resto e stanno facendo la riconciliazione con lo Stato non con lo Stato e sono finora più di 500 centri cittadini centri cittadini che hanno fatto questa riconciliazione questa pace quindi tra di loro e col governo e questo aiuta a avere i rifornimenti per molti posti che erano assediati assediati quindi c'hanno i rifornimenti c'hanno adesso la possibilità di curare i loro feriti che prima non sapevano dove mandarli quindi sono accettati anche negli ospedali del governativi e poi un'altra cosa molto più importante hanno riaperto le scuole anche i ministri da maggio da giun scusate da gennaio e febbraio scuole che erano chiuse a causa della guerra da tre o quattro anni o addirittura in alcuni posti da cinque anni e stanno aiutando molta gente a tornare nelle loro case e nei loro terreni e nei loro terreni questa è anche una soluzione ai profughi e speriamo la gente vedendo questo e vedendo la differenza cosa vuol dire la guerra e cosa vuol dire la pace credo tutti quanti sceglieranno un po' la pace grazie eccellenza per questa testimonianza molto ricca due brevi domande una di verifica mi pare di capire che lei ci dice noi cristiani in Siria vogliamo uno stato laico della vera laicità che rispetta tutte le diversità e e religioni e religioni religiose etniche eccetera vuole che tutte queste espressioni possano esprimere la loro ricchezza che c'è mi pare di capire d'altra parte che la ricchezza dei cristiani in Siria sia proprio questa comunione questa unità ritrovata o approfondita che è aperta a tutti questo è un grande insegnamento per me italiano per noi occidentali io sono cristiano e credo fermamente in questo in una Italia Europa che sta un po' liquefacendo la sua identità su una laicità che è laicista e cioè liquida e che dove tutto è relativo e l'uno è uguale al 10 uguale al 100 il bianco è uguale al verde eccetera eccetera mentre non è così esistono delle verità oggettive l'altra cosa mi pare di capire quindi su questo la ringrazio perché davvero anche noi dovremmo lottare per uno stato veramente laico in Europa veramente laica certi esempi belge e francesi sono deleteri a mio parere modesto e inglesi d'altra parte mi pare di capire che i russi con buona pace di tutti per loro motivi anche geopolitici di potenza per l'amor di economici però abbiano dato davvero un contributo alla Siria per fare un po' di ordine precario peraltro mi pare di capire ma abbia dato un contributo è così? grazie cosa che non hanno fatto i paesi occidentali la prima non era una domanda quindi sono d'accordo primamente d'accordo con lei che ha detto e per la seconda parte noi a dire la verità guardiamo anche in modo molto positivo all'intervento russo perché l'intervento russo ha allontanato il pericolo dell'Isis che era proprio incombente era molto vicino e in questi due mesi di intervento l'Isis ha perso il 25 del territorio che aveva occupato quindi sono visti anche un po' sul terreno ma più questo intervento russo noi guardiamo positivamente perché ha spinto ha spinto alle trattative ha spinto alla tregua e speriamo che proprio questa tregua queste trattative quindi arrivino a un processo di pace che questo noi vogliamo non la guerra non i bombardamenti grazie eccellenza una domanda qua eccomi mentre lei prima parlava in un passaggio ha detto Dio il provvidente no? e sinceramente quando lei ha detto questa parola come dire io ho subito pensato insomma come Dio il provvidente no? a voi che vi crollano le case mentre siete a messa vi crolla la cupola come fa a dire che Dio si prende cura dei suoi figli quando ha una ragazza si vede morta la madre lì di fronte no? mi veniva questa domanda qua però appunto sentendo lei parlare di speranza comunque lei pone di fronte a noi la possibilità nelle sue parole di un'esistenza di una roccia di un'ipotesi comunque positiva anche in tutta quella distruzione no? e sinceramente penso che tutti noi in questa sala anche se le nostre sfide sono molto più piccole siamo in cerca di una roccia così no? cioè quindi la mia domanda è è veramente possibile un'esperienza positiva anche in delle circolazioni costanze così dure di distruzione e che cos'è che la permette perché anche noi possiamo viverla certo è difficile ed è duro non è tanto semplice spiegare ma parlando anche dal punto di vista cristiano noi siamo arrivati alla salvezza alla redenzione grazie a delle cose dure e sofferte alla sofferenza di Cristo alla croce di Cristo quindi siamo arrivati alla risurrezione quindi noi guardiamo alla sofferenza non che accettiamo la sofferenza perché nessuno deve soffrire nessuno vuol soffrire ma però noi guardiamo al risultato di questa sofferenza che è una risurrezione e Dio certo è providente providente forse distruisce la casa ma poi trovo anche io Giorgio Paolucci che mi aiuta a ricostruire questa casa quindi ha trovato un'altra providenza sicuro che è providente providente tramite tramite noi tutti tramite i suoi figli noi siamo le sue mani e noi siamo anche i suoi piedi e tutto il resto il Signore però una cosa che mi ha toccato tanto e la voglio anche farvi partecipare avevamo ogni settimana la messa per i bambini e una volta c'erano le letture sulla fete e io scendevo giù così tra di loro quindi li spiegavo un po' li chiedevo avvicinavo il microfono e ora ho detto ma la fede per voi cosa indica cosa vuol dire fede a voi ragazzi un ragazzo era ancora non nelle pre-elementari nelle pre-elementari era alzato il dito alzato la mano io tanto per incoraggiarlo ho presentato il microfono sapete cosa mi dice dice la fede vuol dire credere a Dio credere alle sue parole vuol dire quando tu mi dici una cosa io ti credo credo a te credo nelle tue parole mi ha detto la fede credere a Dio veramente mi ha colpito io l'ho detto l'ho ottenuto così in alto l'ho detto neanche i più grandi teologi hanno saputo dare una una spiegazione una definizione della fede così semplice e da allora io ogni giorno ogni giorno è soggetto della mia meditazione veramente credo alle parole di Dio se devo io credere alle parole di Dio mi dice questo e mi dice anche altro molto più grandi quando mi dice sempre non temere piccolo grece non temere io sono con voi fino alla fine della vita lo è con noi o non lo è è fedele nelle sue promesse o non lo è quindi questo e poi quello che ci aiuta forse di più nell'Oriente non dimentichiamo che i cristiani sono figli sono figli e nipoti di martiri di martiri di gente che ha preferito dare la vita e non rinunciare alla propria fede che sa veramente cosa vuol dire soffrire per la propria fede e questo per loro un tradimento cioè se uno rinuncia alla fede non solo alla fede tradire la fede ma tradire chi tradire i suoi tradire genitori parenti nonni e tutto il resto quindi questo ci aiuta anche moltissimo grazie prego due ultime domande veloci visto l'orario qui davanti prima fila e terza sentite la domanda cosa possiamo fare per Aleppo e per rispondere agli appelli salvate Aleppo per dire la verità pregate per noi statici vicino cioè non solo materialmente ma statici vicino voletici bene perché perché noi sapendo che c'è gente che pensa a noi che è con noi si dà una forza si dà proprio si alza il morale come si dice perché non si sentiamo più sui membri di una minoranza da niente ma sentiamo che noi apparteniamo a una grande famiglia che siete voi che è la chiesa e questo non è poco per noi questo è molto importante pregate perché veramente la preghiera ha avuto il suo effetto anche nella guerra siriana cioè quando volevano bombardare la Siria il Santo Padre ha indetto quella giornata di digiuno e di preghiera e noi siamo stati salvati per quello e i musulmani sempre me lo dicono ogni volta che vai lì devo ringraziare il Santo Padre al mio nome al nostro nome per questo per questo e poi come diceva San Paolo anche alle altre comunità benestanti benestanti fuori della Palestina se vi hanno dato la fede voi cercate anche di condividere il vostro bene un po' materiale con loro e noi se riusciamo ad aiutare questa gente riusciamo perché ci aiutate perché gli altri ci aiutano altrimenti da dove noi possiamo aiutare quindi anche un aiuto materiale è sempre ben accolto grazie allora mi permetto di concludere con ricollegandomi alla penultima cosa che diceva il Vescovo perché leggevo in questi giorni un libro scritto un'intervista a un suo collega potremmo dire Patriarca dei Caldei Raffaele Primo Sacco Patriarca dei Caldei di Bagdad che dice come i cristiani iracheni stanno di fronte a quello che sta accadendo in una situazione non molto meno grave di quella che state vivendo voi la fede per noi non è speculativa è una questione di amore e di attaccamento alla persona di Cristo alla persona di Cristo in Oriente la religione fa parte integrante dell'uomo è come la farina nel pane non si può estrarla per i cristiani la fede è la cosa più grande per la quale si è pronti a sacrificarsi per noi credere è essere il libro si intitola più forti del terrore e io leggendo questa frase e questa conclusione credere è essere ho capito di più perché si può essere più forti del terrore cioè si può stare anche di fronte al terrore se si ha una ragione per vivere e per morire e quindi credo che le cose che lei ci ha detto stasera la testimonianza che ci ha dato aiutano noi che viviamo in condizioni un po' meno difficili non molto meno perché le insidie sono di altro genere ma ci sono le insidie all'uomo all'uomo a quello che sta alla radice all'esperienza umana che sta alla radice di ogni uomo in ogni latitudine credo che la testimonianza che lei ci ha dato e le parole di Raffaele Primo Sacco ci dicano che tutti abbiamo bisogno di capire qual è la ragione che tiene in piedi la nostra vita la ragione per vivere e per morire ed è per questo che noi la ringraziamo e ringraziamo anche tutti voi ascoltiamo il suo ultimo saluto vi saluto permettetemi di raccontarvi una pagina di cronache dei frati francescani in Gerusalemme che sono stati missionari in Armenia cioè in Turchia con gli armeni dal 1800 e sono stati anche martirizzati con gli armeni quindi abbiamo il Beato Salvatore Lillino italiano e altri sette compagni frati anche ammazzati in una delle cronache che hanno scritto in un villaggio i turchi avanzavano per ammazzando questi armeni una mamma che in un villaggio lì aveva cinque figlie giovani cinque figlie e già era sicura che andava contro la morte allora la sera ha riunito le figlie ha detto figlie mie domani viene lo sposo lo sposo e quindi lo dobbiamo accogliere in una maniera molto decente allora le ha fatto fare il bagno come si fa a una sposa e poi le ha fatti vestire i vestiti più belli che avevano ha fatto una bella scena hanno cenato insieme e poi disse ma lo sposo non si aspetta dormendo dobbiamo vegliare per aspettare lo sposo e hanno passato la notte pregando e quelli all'alba sono arrivati le hanno ammazzate eccetto una l'hanno ferita gravemente ma però si è salvata per miracolo ed ha raccontato questo ha raccontato questo ai frati cioè quello che è successo e i discendenti oppure i parenti di questa famiglia si trovano tuttora in Areppo in Areppo quindi pregati per noi affinché noi siamo come vi ho detto buoni cristiani e pregati per la fede affinché la fede possa continuare in quell'oriente perché la nostra presenza lì non è per caso ma è una missione è una vocazione credo noi e questo noi cerchiamo che la gente che sia attaccata a quello altrimenti chi li tiene laggiù e grazie grazie per la vostra grazie per la vostra pazienza e grazie anche per la vostra solidarietà va bene ecco allora siamo un Ave Maria insieme Ave Maria piena di grazie Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo e lo tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio preghi per noi e per tu e il Signore vi benedica e vi dia la sua pace e grazie di nuovo grazie a tutti